Le principali piazze europee si sono risollevate dopo i tonfi degli ultimi giorni, archiviando una seduta in netto rialzo. Un rimbalzo tecnico, secondo alcuni analisti. Secondo altri, fondamentale è stato il via libera della Corte Costituzionale tedesca al Fondo Europeo Salva Stati. La decisione della Corte tedesca non è stata una sorpresa, sostiene Robert Halver di Baader Bank. I mercati l'avevano già data per scontata e penso che in futuro ci saranno altri interventi salva stati nella zona euro. Francoforte ha guadagnato oltre il 4%, beneficiando del dato di luglio, migliore delle attese sulla crescita della produzione industriale in Germania. In rally anche Milano, trainata dal settore auto e dai bancari, più penalizzati nelle ultime sedute.